Scarica l'app di Juventus News 24, informazione sportiva 100% bianconera Le impressioni sono sempre buone, so che sono arrivato nella grande squadra dove abbiamo dei giocatori forti e di un allenatore molto forte che possiamo fare sicuramente molto meglio a queste due partite che hai detto però come ho detto prima sono felice di stare qua e spero di dare il mio contributo alla squadra Cercherò di dare sempre il 100% di me, dare quello che mi chiede il mister sapere cosa ha bisogno della squadra in ogni momento essere pronto per aiutare, per far giocare la squadra, per essere vicini ai centrali in difesa Ci puoi raccontare la tua estate con Di Maria? Dal momento che ho saputo che lui veniva qua abbiamo iniziato a parlare della mia possibilità di venire qui ho iniziato a parlare con la mia famiglia, con la sua famiglia anche perché sono amiche Dopo un paio di giorni abbiamo deciso di venire qua, sapevamo la possibilità e quindi abbiamo fatto di tutto per venire E' una cosa che mi ha chiesto pure il mister appena sono arrivato di giocare in verticale è una cosa che sempre ho cercato, che so che posso dare questa cosa alla squadra e spero di poterla fare Ho scelto la Juve perché come ho detto tante volte è una squadra che ho sempre voluto venire ho avuto la possibilità di venire tante volte e penso che quest'anno è stata la decisione corretta volevo giocare, volevo tornare in Serie A, volevo giocare in questa squadra e sono felice di essere qua Sono stato sempre molto tranquillo e avevo molta fiducia non solo in me ma nella società abbiamo parlato tante volte e loro erano quasi convinti di fare questa scelta e come ho detto prima ero tranquillo e adesso sono molto felice Visto la partita dell'altra sera contro il PSG cosa manca a questa Juventus per essere a quel livello? Penso che dopo i primi 20 minuti abbiamo fatto una grandissima partita abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, di poter lottare contro tutti e speriamo come ho detto prima di continuare a lavorare, di continuare a migliorare e sicuramente avremo dei risultati positivi sempre Sono due partite che sono arrivato qua e spero di continuare a vedere le cose che ci sono qua non solo nella Juventus ma in tutta la Serie A e cercheremo come ho detto prima di giocare meglio di quello che stiamo facendo, di trovare risultati positivi che in ultime due partite Ti ha chiesto il mister di andare come hai fatto con molto coraggio alla ricerca del pallone davanti all'area di rigore della Juventus o ti piacerebbe giocare qualche metro più avanti? Quel ruolo lì di andare a prendere la palla è quello che mi piace andare a cercare vicino al centrale, vicino anche alla porta nostra per portarla su è una cosa che mi piace a me, mi piace quel ruolo lì e cercherò di farlo sicuramente sempre meglio